Massimiliano Federiga, il decreto sul lavoro del governo Renzi piace alla Lega Nord? È un decreto che porta dei minimi residuali correttivi alla riforma del lavoro Fornero, votata dallo stesso PD e avvalorata e spinta dallo stesso OSCE, quando il ministro del lavoro Padoan era responsabile economico. Quindi è una presa in giro che non porterà un posto di lavoro in più. Il ministro dell'economia oggi dice che questo decreto servirà a creare nuova occupazione, è una balla colossale che bisogna smentire. Non a caso lo stesso DEF, approvato dallo stesso governo Renzi, non prevede alcun tipo di miglioramento nel comparto della disoccupazione che ha raggiunto i massimi storici nel nostro Paese. In questo momento l'unica via da perseguire per rilanciare il mercato del lavoro è ridare competitività alle imprese. E lo si fa in due modi, abbassando il cugno fiscale, quindi il costo per l'impresa, e dunque incentivare a tornare a produrre le nostre imprese, in secondo luogo abolendo la riforma Fornero delle pensioni, che ridarebbe nuova capacità occupazionale, mandando delle persone in pensione. Per questo noi stiamo raccogliendo le firme per il referendum. È chiaro però che questo governo non ha la minima intenzione di investire risorse nell'occupazione, ma le vuole investire invece soltanto nell'immigrazione. Infatti i costi dell'immigrazione clandestina quest'anno supereranno i 10 miliardi di euro, mentre per il lavoro e per i nostri cittadini quindi il governo Renzi mette zero risorse.